Ciao a tutti i ragazzi di Long Live Rock and Roll e a tutti i metallari d'Italia in questi tempi duri Siamo a casa, ascoltiamo un sacco di heavy metal, di rock and roll Facciamocela passare nel meglio come possiamo Sarà dura ma ce la faremo Long Live Rock and Roll Un saluto da K.A.S. tra l'Aroficina e dal mio nipote Christian